buongiorno sono luciano marchino sono qui per presentarvi il nostro programma triennale in counseling sommato relazionale stiamo parlando di un programma che si fonda essenzialmente su un metodo un metodo che abbiamo messo a punto a partire dagli anni 80 e lo abbiamo praticato prima di tutto nella formazione dei psicoterapeuti in seguito abbiamo evoluto questo programma in un programma di formazione per counselor un programma particolarmente dedicato un programma che fonde le consapevolezze le conoscenze le esperienze che vengono da due ambiti paralleli e due ambiti che noi abbiamo frequentato personalmente e abbiamo integrato al nostro interno la scuola di Alexander Lowen fondata soprattutto su un metodo esperienziale diretto che passa attraverso il corpo e la scuola di Carl Rogers con i suoi fondamenti principali atteggiamento positivo incondizionato empatia e congruenza noi vi passeremo tutto questo non come concetti astratti ma come esperienze direttamente vissute è un po come dire che noi non proietteremo su uno schermo la formula della cioccolata ma che bene forniremo una tavoletta perché voi possiate assaggiarla dopo questo assaggio non la confonderete mai più con qualcosa di diverso perché sapore e sapere guarda caso coincidono la parola sapere deriva dalla parola sapone e questo è uno degli elementi fondanti in che modo realizziamo questo fornendo ai nostri allievi prima di tutto delle esperienze dirette attraverso delle dia di sapientemente condotte dai nostri docenti di come si formano i tratti caratteriali i tratti caratteriali su cui costruiamo il nostro modo di essere nella realtà ma prima di tutto ve ne forniremo un'esperienza diretta la tavoletta di cioccolato dopodiché il vostro sapere sarà arricchito da lezioni teoriche che comprenderanno sia le letture corporee la condivisione dei vissuti emozionali e poi l'aspetto teorico relativo a tutti questi temi un'altra caratteristica della nostra scuola è quella di avere un corpo docente di primo ordine come vedete ho i capelli bianchi e quindi sono stato in questa città a milano il primo a portare il discorso sia di rogers che della bioenergetica quindi ho maturato una lunga esperienza personale ma soprattutto ho potuto selezionare negli anni i migliori docenti possibili docenti che sono ben contenti di insegnare nella nostra scuola perché sanno che accanto a loro ci sono altri docenti di grande qualità. Noi vi insegneremo degli strumenti abbastanza preziosi in qualunque tipo di relazione in relazioni personali e in relazioni professionali nella relazione di counseling di adico diciamo formato da un cliente e un counselor ma anche all'interno di istituzioni come la scuola come vari tipi di organizzazione sociale come le aziende. A cosa potrà servirvi il counseling? Il counseling vi potrà servire a migliorare davvero in modo significativo il vostro modo di comprendere voi stessi e gli altri all'interno delle relazioni. Come sappiamo la parola crisi ha a che fare con la parola opportunità. Le persone che si rivolgeranno a voi sono persone che stanno attraversando un periodo critico della loro vita, persone che quindi hanno diritto ad avere di fronte a sé un counselor consapevole, sensibile, preparato e in contatto con i propri sentimenti. Questa è la persona che vorreste incontrare avendo voi bisogno di counseling e questa è la persona che diventerete seguendo la nostra formazione. Grazie. Grazie a tutti.